Il direttore sportivo del Napoli racconta al Social Football Summit dettagli inediti sul suo periodo in azzurro e le prime richieste dell'allenatore. Giovanni Manna ha rivelato interessanti retroscena del suo sbarco a Napoli. Intervenuto al Social Football Summit allo Stadio Olimpico di Roma, il DS Azul ha raccontato nella terza parte i suoi primi contatti con la società, dopo Juventus Frosinone ho ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto e non ho risposto. Il giorno dopo fu Chiavelli a richiamarmi. Ho parlato con la Juventus e ho incontrato il dottor Chiavelli. Quando ti chiama una società importante come il Napoli non puoi dire di no. Nel primo incontro con Antonio Conte, Manna ha rivelato dettagli inediti, ci siamo incontrati a casa sua. Innanzitutto ci conosciamo perché non ci siamo mai incontrati alla Juventus. Era molto interessato a incontrare la squadra. Dell'aspetto economico aveva già discusso il presidente in ottobre. Su Di Lorenzo e Quarazchelia è stato subito chiaro, non dovevano essere toccati. Alla domanda sulla possibilità di una seconda squadra in Serie C, il DS ha espresso cautela. È una questione complicata. Non deve essere un progetto in sé. Richiede un percorso più lungo e costoso.